Stavo pensando che quando io e te lavoriamo insieme la tua scrivania diventa il nostro spazio condiviso e queste statuine di elefanti mi inquietano dal primo giorno che le ho viste quindi mi chiedevo se potessimo sparazzarcene Oh, ma forse è insensibile da parte mia chiederti di liberartene dato che avranno un profondo significato per te Se a te non piacciono gli elefanti, non piacciono neanche a me Bene In realtà loro mi piacciono, sono una famigliola felice e lui mi sta simpatico Comunque